a bella ragazzi sono c'è che è 0 ecco il nuovo episodio oggi siamo in compagnia di devi marco un po' di ragazzo no non si può parlare ragazzi e ti chiamo subito da io ci sono vincere perché ho avanti a te domani mi piace di più qua c'era ho trovato un bellissimo biscotti e un accetto e lo sai non non c'è uno io scappo io metto regaio bambino c'è la spada no lo so io mi tengo spada ok sono sotto il po ok vado a piacere ora c'è giustavo stava qua eccolo ok 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 allora ragazzi oggi siamo su badlion perchè iglesiascratta la chiave come la merda lasciamo il minimo contro ma ben dallo almeno qua non la chiave non si vede del mare no io so ti faccia stendendo che il marco posto ok allora io so te lo vedo no no scappa che mi vedi porca miseria c'è un funferro che stava in giro c'è un giro c'è un giro che è il capo purio visto messo tutto so tre noi e te io sto all'opera la la attenzione pari la giusta messi di merda di poi qui non 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 ma non ma non non vol il senso e l'alberto c'è un altro posto di uomo un po' sono viti nonostana che devo male eccolo che arrivi note scappo scappò non so chi da questo no sono stato io lo sono io vieni spada c'è una spada è una spada c'è una spada in questa venire con la città c'è una spada c'è una spada chi mi ha dato una spada oh c'è uno c'è fuori scappa 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 si via qua seguime no c'è fu il ferro c'è fu il ferro dietro 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 scappa 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 via de qua seguime seguime mi stai segui aspetta mancia oddio rega tutti qua no sono cascato come una merda vabbè via attraversario e salite qua e possiamo usarvi non è vero ecco vai sto sul treno è presente quello che abbiamo killato prima che c'aveva i pantaloni in ferro mettiteli quando a allora ok 3 3 eh 7 ma se vuoi giù un'arco è che provolta giocino chiamo una testa qua ci serve ma è appena ci si scuola da un po adesso si io so quella del fuoco cori che quelli stanno sul treno al cibo dia e lui ce n'ho poco merda allora ragazzi niente ma dovete voler regali quando più difficile che è stato se vince come niente dopo l'ordine di rossi un po' ho trovato ok il tuo posto tu sai che è stato nell'albero un banco quando quando abbiamo un po' ok, non ho un po' vai scendi le scale ah, qua si si è ok ok oh, sali il shiftato magari ci vedono poi ci saltano al collo oh, io passo sugli alberi mi sento più protetto si, se ci riesco senza cascare magari oh, ma che cazzo è che cazzo è vai ok ah, ragazzi siamo arrivati a 30 iscritti oh, sbam e a breve come ho già detto ti serve la canna pesca a breve uscirà il secondo episodio della skyblock con overload dagli regà qua c'era una cesta, sbam eccola ma se è merda ma se è merda ci sta uno alla come ha messo lo so lo so ti chiedi me da solo m si è da solo eh, è vero, gambalino non voglio eccolo, 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 eccolo ultima speciale spazio 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 scappa 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 oh, lo uccido, lo uccido, lo uccido, vada mi ha messo un corpo si sta cheppolando no, scappa sei cheppolato scappa scappa no, no, no no, guarda le che che c'ha vai, uccido oddio 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 rega che culo però spagnamante ma io d'amnicivo 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 o te controlla se sono fecce dammi fecce se sono fecce non è che c'è noto eh, mo la andiamo a craftare o te controlla se arriva qualcuno o prendila oh, la in mezzo c'è cibo ma dove stai io? eh, vai, chi l'amo quello in mezzo tra noi due vai ok ok aspetta cosa mi faccia sta scappando no, ho capito ok, comunque ragazzo ora è andata molto bene in questo primo tentativo di registrazione vedo, non c'è chi lo fa o te le fufferro un po' ah, sono pure io non mi graffo le frecce te ne do pure un po' te si va, non c'è la tua e nevanto tu dici eh, si non la usi allora uso con la ferra se c'è dulingotti ne ha no ma specialmente diamanti della craft anzi c'è no c'è no c'è no c'è no c'è no allora te do un po' di frecce di quanto c'è mai zero te ne do 12 c'è no c'è no 12 puri io aspetta il sistema dottor toson dottor hai un ringotto te che te te ce li fanno dalla spagnamante acciadino eh, stalla in mezzo comunque vaffan ce ne stavano pure due ok ragazzi sta per iniziare il deathmatch ma d'ho rilascio, questa partita c'è andata proprio una botta di culo ok comunque siamo su an sugli abbandonati a mezzo tutto il pubblicato stiamo sugli arrancada c'è perché così buono social oh ma io non c'è a piedi l'inferro non vale comunque se volete scrivetemi nei commenti vabbè se se volete scrivetemi nei commenti porterò qualche 2v2 con questo nabo qua ma che insieme siamo proprio la bestia eh siamo pure la bestia ovvio vabbè ok ragazzi iniziati vai che fanno sei pronto? sei pronto? ehm si vai ok vai 3 2 1 via no ho aperto la crafting oh dove vai tutto così? oh oh e vi è certo oh come laghi ok vedo io laggare oddio tre frecci ok fatto oh che sta spammata da share oh david 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 no no oddio ok ragazzi che vado a fuoco quanto sono sexy mentre vado a fuoco ok 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 ragazzi questo video può anche finire qua se vi è piaciuto come al solito lasciate un bel like iscrivetevi che non so basta noi ci vediamo in un prossimo video bella ciao ciao ciao